39 i sottosegretari del governo di Mario Draghi, adesso è ufficiale, la lista è completa, ci sono 19 donne e 20 uomini, Draghi aveva chiesto almeno il 40% di posizioni femminili, non credo che nel PD, da quello che ho letto, abbia indicato solo sottosegretari donne, pazienza, voi avete 11 sottosegretari, onorevole Bonafede, di cui 7 donne e 4 uomini, almeno ho appreso la notizia insieme a voi, quindi siete soddisfatti, 11 è il numero che avevate chiesto, anche perché le ricordo che la Lega dei Salvini ne ha 9 di sottosegretari, più o meno corrisponde al numero dei parlamentari, perché più o meno si calcola una proporzione, ma direi che questo interessa poco ai cittadini italiani, diciamo che la notizia importante è che la squadra è finalmente al completo e da domani questa nuova sfida di governo può partire e ci sono tante emergenze, c'è una pandemia che continua a metterà di una prova il paese, è importante questo secondo me per gli italiani, dal canto nostro siamo soddisfatti e io colgo l'occasione di essere qui per augurare buon lavoro non solo ai sottosegretari del Movimento 5 Stelle, ma anche a quelli delle altre forze politiche. Ma siccome il Consiglio dei Ministri sui sottosegretari è prima slittato, poi è stato sospeso e adesso si è concluso appunto con la squadra completata, questo dimostra un po' anche forse i limiti di questo governo di larga maggioranza e anche il fatto che Draghi deve fare i conti con le ragioni e le logiche dei partiti, di voi? Ma indubbiamente è la difficoltà principale che avrà questo governo, la formazione della squadra dei sottosegretari. Lo vede solido però questo governo, lei? Vedo un tentativo importante di affrontare i problemi del paese con senso di responsabilità. Nasce d'altronde, questo governo nasce proprio dall'esigenza di rispondere a un appello del Presidente della Repubblica a seguito di una crisi irresponsabilmente scatenata da Matteo Renzi, di fronte a quell'appello del Presidente della Repubblica in una situazione assolutamente eccezionale, un appello fatto a tutte le forze politiche, la maggior parte delle forze politiche hanno risposto e chiaramente è lì il problema, la necessità di trovare una sintesi tra più forze politiche, per cui dinamiche che sono già difficili. Ma si ha un po' l'impressione, mi scusi, che Salvini...